Martedì 19 gennaio, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la segna stampa, occhio ai giornali del mattino in diretta alle 7 sul canale 17 di FanoTV in tutta la regione Marche, allora partiamo dal santo, le previsioni del tempo e poi giornali, cominciamo a vedere il santo di oggi, anzi i santi, Mario, Marta, Baco e Audiface, il sole sorgerà alle 7.38 tramonterà alle 17.01, dunque il tempo Attenzione alle gelate, attenzione perché oggi, questa mattina, meno 1, meno 2 qui sulla costa quindi possiamo immaginare anche nelle zone interne, comunque per quanto riguarda il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperatura in diminuzione nella notte, in aumento invece nei valori massimi per domani, mercoledì 20 gennaio ancora cielo sereno poco nuvoloso, giovedì 21, pioggia in mattinata soprattutto nelle zone di montagna con limite delle nevicate intorno ai 1700 metri, instabilità nelle zone interne per la giornata di venerdì e debono instabilità per quella di sabato con probabile peggioramento nella giornata di domenica e adesso i giornali. Titolo d'apertura del Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, Marche Nord, pronti posti in più. Quali sono i posti? Sono quelli in terapia intensiva. Il 23 la consegna dei 17 letti, screening agli studenti, Ricci dunque convince la regione, a Quaroli ci stiamo lavorando per la riapertura delle superiori in presenza al 50% a partire dal 25 gennaio. Zero offerte invece per l'asta, altro flop, nessuno vuole Villa Marina a Pesaro, mentre purtroppo non ce l'ha fatta Ancona, sarà Procida, la capitale della cultura e dunque l'amaro del sindaco Mancinelli. Poi da Pesaro ancora Confcommercio, sosta per 45 giorni, i commercianti chiedono di congelare i ticket per la sosta, per il pagamento del parcheggio. Droga, il pusher pendolare, finisce all'ospedale, aveva droga ovunque, anche all'interno del proprio corpo. Saludecio, cena da carriera, stangata la famiglia di Villa I Tramonti. Taglio basso, qua operazione sicurezza coinvolge sei scuole fanesi. In estate nuovi controlli ai solai e contro soffitti. Il Comune ha intercettato 49 mila euro dal Ministero. Infine un'intervista, sempre dalla prima del Corriere, violinista fanese a Bangkok, la mia convivenza con l'emergenza coronavirus. E poi il Carlino, il Carlino di Pesaro. Io da negazionista a testimone, questo è il titolo d'apertura del Carlino di oggi, dimesso dall'ospedale Daniele Gidi racconta e dice è andata bene ma mi sento come se avessi 80 anni. Poi sarà discusso giovedì in Lussemburgo il ricorso alla Corte Europea, le fondazioni rilanciano la battaglia su Banca Marche. Poi così lontani, così vicini, la fotonotizia, stanza degli abbracci, emozioni, lacrime e sorrisi a casa Aura. Poi la notizia della riapertura delle scuole il 25, domani c'è un incontro per la decisione in Regione. Poi Burioni, governo che facciamo con i sanitari non vaccinati, il virologo sui casi appunto pesaresi, in particolare casa Aura. Poi la tragedia senza fine, ancora 16 vittime nelle Marche, il bollettino di ieri del Gores sul Covid, sfratti bloccati due nel 2020, prima arrivavano a quota 108, mentre in carico alla Svim Cangini deve dimettersi, la Lega contro il consigliere comunale per la consulenza alla società della Regione. Poi la storia, il prof di 99 anni, vi racconto la mia guerra, Glauco Mancini ripercorre come in un romanzo la partenza per il fronte nel 1942. E dal Carlino di Ancona, soltanto la fotonotizia per appunto il titolo, peccato Ancona, procede, è stata scelta come capitale della cultura italiana, ricordiamo anche fa non aveva partecipato, ma è stata esclusa ancora prima, sogno sfumato per poco, il sindaco Mancinelli dice amaro in bocca, l'assessore, realizzeremo comunque i progetti che erano stati inseriti nel dossier. Allora, in classe già da lunedì, a Quaroli cambierò l'ordinanza, ma solo se l'indice RT resta sotto 1, l'annuncio del Governatore, contributi per impianti da reazione e sanificatori, questa è la pagina che riguarda la Regione, anche dal Carlino di Pesaro, rientro a scuola al 50% da lunedì, ecco come è la Regione compra sanificatori per le aule. Il Governatore conferma solo se l'RT resta sotto l'uno e se gli ospedali non sono in difficoltà. Domani però, come abbiamo detto, ci sarà un incontro decisivo. Poi vi segnalo questa iniziativa invece contro l'aborto, un'iniziativa che è nata da un dialogo, un dialogo tra papà e figlio, il figlio otto anni e questo papà, dopo aver parlato con il figlio di otto anni, ha deciso di donare 1450 pannolini, tanti quante sono le interruzioni volontarie di gravidanza nel 2019 sono state nelle Marche e che sono stati lasciati l'altra sera davanti all'ingresso di Palazzo Leopardi del Consiglio regionale ad Ancona e questa iniziativa è stata poi condivisa dal popolo della famiglia. Il carico di pannolini, spiegano i promotori, è stato lasciato in consegna alla consigliere del PD Manuela Bora dopo le polemiche con l'assessore Giorgia Latini della Lega che vedete nella foto. Giorgia Latini della Lega che si era espressa contro l'aborto e aveva manifestato l'intenzione di portare in giunta la questione per discutere appunto di questo problema. Secondo i promotori è una buonaria provocazione affinché tutti possano capire che non esiste libertà senza la responsabilità verso la propria vita e quella altrui. E con la disarmante, spiega ancora, con la disarmante chiarezza tipica dei bambini, mio figlio otto anni, alla madre che gli stava spiegando il senso della polemica tra i due consiglieri regionali Bora e Latini, qualche giorno fa appunto questo bambino di otto anni aveva detto, aveva obiettato, ma se le loro mamme le avessero volute abortire come ci sarebbero rimaste? Già. I presidi, eravamo pronti, qui parliamo ancora di come si andrà a scuola e quali saranno le problematiche per il ritorno in presenza degli studenti. I presidi intanto pesaresi dicono eravamo già pronti per la riapertura il 7 di gennaio, intanto Adria Bus mette in campo 22 mezzi in più, i dirigenti aspettano solo l'ordinanza del governatore, l'azienda dei trasporti conferma anche di aver raddoppiato le fermate nei punti più sensibili. Al liceo classico linguistico, Lisotti, cercheremo di sfruttare al meglio le nostre aule più grandi. E poi sul bollettino di ieri, positivi il 33% sul totale dei tamponi, ieri altre 16 vittime in regione, aumenta la pressione ospedaliera, compresi i reparti Covid di Marche Nord. La vittoria, possiamo così dire, di Matteo Ricci, che ieri era presente qui nei nostri studi per primo cittadino. La replica, se volete, è disponibile anche oggi nel nostro palinsesto. Ebbene, dicevo la vittoria di Ricci, che già da diverse settimane chiedeva di sottoporre il maggior numero di studenti possibili delle scuole a tamponi rapidi antigenici. Salta Martini aveva detto di no, l'assessore regionale. Ebbene, adesso c'è questo cambio, questo dietro front, perché se martedì scorso in Consiglio regionale la linea trasmessa all'Assemblea era niente tamponi antigenici rapidi per studenti e docenti, come aveva chiesto appunto Ricci, ora la Regione apre urbi e torbi e mette a disposizione di prof e ragazzi tamponi rapidi da fare anche senza prenotazione. Dice proprio così l'assessore Salta Martini e Acquaroli che conferma nella conferenza stampa di ieri pomeriggio Palazzo Raffaello appunto questa iniziativa che porterà a testare appunto anche studenti, professori e quant'altro. Ora, tornando a Marche Nord, l'ospedale di Marche Nord, sabato verranno attivati 17 posti di terapia intensiva che noi chiaramente ci auguriamo che possano rimanere assolutamente vuoti. Ma la conferma arriva dall'assessore Salta Martini, cantiere in fermento alla Palazzina F con i 41 letti, si completa così il piano predisposto dalla Regione nel giugno scorso. Però c'è il problema adesso del personale perché l'azienda ospedaliera Marche Nord conta di mettere altre 39 unità di infermieri, infermieristiche necessarie a coprire il reale fabbisogno che è prodotto dall'acquirsi di questa emergenza dell'ultimo mese, dai nuovi posti letto che attivati di terapia intensiva al Presidio San Salvatore. Questo è un po' il senso dell'ultima determina del 7 gennaio che appunto servirà anche perché è vero che insomma ci sono questi 17 posti, ci saranno questi 17 posti ma poi vanno seguiti, ci serve il personale. Sulla fase 2 dei vaccini invece il Corriere Adriatico di oggi titola over 80 la lista sarà fatta dai medici di base, la bozza di delibera arriverà oggi in giunta, 125 mila anziani in attesa delle linee guida, Salta Martini dice avverrà tutto secondo le modalità della profilassi anti-influenzale. Preoccupano un po' i rallentamenti nella distribuzione da parte di Pfizer per la fornitura delle dosi dei vaccini, 10.530 alle marche prevista per oggi che infatti slitta domani questa fornitura e c'è anche grande attesa per l'approvazione da parte dell'EMA del farmaco prodotto da AstraZeneca che permetterebbe di accelerare tra l'altro tutta la tabella di marcia perché sapete che rispetto agli altri due vaccini i più famosi Pfizer che sta a meno 80 gradi e l'altro che sta a meno 20 e quello di AstraZeneca sta decisamente a meno 4 quindi si può benissimo tenere in qualsiasi frigorifero e quindi potrà essere somministrato anche dai medici di base piuttosto che dai farmacisti laddove appunto si arriverà ad un accordo. Abbraccio a casa Aura invece, questo è il titolo dal Carlino di Pesero non si lasciavano più primi incontri dopo mesi tra gli ospiti della casa di riposo e i familiari grazie a questa stanza speciale dove stringersi senza però toccarsi e questi abbracci sono la miglior cura vedete le fotografie che fanno stringere il cuore dire il vero perché a guardarle sono di una tenerezza ma nello stesso tempo di una drammaticità unica vedere queste braccia infilate dentro questi sacchetti di plastica potete immaginare insomma qual è l'effetto ma insomma questo è quello che pare si possa fare più di questo non si può. Intanto la pagina di fano del Carlino nell'anno del Covid 465 cremazioni in più l'impianto al cimitero dell'Ulivo è passato da 1387 salme a 1852. Il blocco dei funerali ha influito ma c'è stato anche un cambio culturale. Reginelli di Aset dice l'aumento del 33% spesso è anche una questione economica, le esequie tradizionali costano molto di più. Intanto c'è la novità al bar del Santa Croce all'ospedale Santa Croce di Fano c'è questa apertura di un bar green sempre all'interno dell'ospedale Santa Croce dove si può mangiare, fare colazione ma anche leggere, comprare anzi il giornale. Sempre dalla pagina della cronaca di Fano questa volta il Corriere controlli ai solai e contro soffitti operazione sicurezza nelle scuole. Il comune si è aggiudicato 49 mila euro dal MIUR che è il ministero. Nel pacchetto ci sono le medie, le elementari e anche le scuole materne. Sono la Padalino, Corridoni, Decioraggi, Luigi Rossi, la Lucciola e il Giardino dei Colori. Poi la cronaca. La cronaca ruba un'auto per andare al Bancomat subito arrestato. È la storia di un 33enne di Colli al Metauro di origini lettoni che sabato pomeriggio è stato pizzicato dai carabinieri dopo il furto. Ha patteggiato la pena con tanto di multa. Infuriato, dice lui, racconta al giudice per una litigata con la mia ragazza. Insomma ha patteggiato sei mesi di reclusione e 300 euro di multa. La storia di un violinista Matteo Frattini sulle colonne del Corriere Adriatico di questa mattina, sempre dalla pagina di Fano, un violinista fanese che è a Bangkok. Lui racconta della sua convivenza con il Covid e racconta di come sta vivendo appunto in tempi di pandemia in Thailandia. Lui dice le frontiere sono chiuse e lo saranno fino al mese di marzo. Centro Margherita, accreditamento scaduto, ruggeri sui timori dei familiari e dei pazienti, quesiti anche sulla residenza protetta e poi un torneo di volo pilotando i droni, due giorni di competizioni aeree organizzato dalla DRF di Fano, tre sessioni di gara sotto gli occhi dei talent scout della disciplina. E poi c'è ancora il dibattito sulla ciclabile Fano Colli al Metauro, quella che dovrebbe passare adiacente alla vecchia ferrovia Fanurbino. C'è anche un video che è stato realizzato con l'intervento di Seri che dice e giudica questo video uno spettacolo. Poi la Sirio gestirà anche il bar e la ristorazione del Santa Croce. Il contratto con Marche Nord sarà valido fino al 2025. Ci lavoreranno cinque persone. Banca Marche, siamo di nuovo sul Carlino. Battaglia giudiziaria in Europa. Giovedì sarà discusso il ricorso alla Corte di Giustizia. Nel Mirino la decisione che bloccò l'intervento del Fondo Interbancario. Tra i ricorrenti anche la Montani-Antaldi che perse cinque milioni con una obbligazione. Poi l'indagine della squadra mobile di Pesero preso con 35 grammi di eroina gli involucri trovati nello stomaco. Un giovane nigeriano richiedente asilo portato in ospedale per farlo evacuare dopo averlo bloccato al Miralfiore. Aveva nascosto praticamente 35 grammi di eroina in pancia, nella pancia, nello stomaco per sfuggire alla polizia. Poi le aveva anche in bocca. Tra l'altro è un'operazione sempre questa rischiosissima perché se questi involucri fossero scoppiati nell'intestino ovviamente quest'uomo sarebbe morto. È salvo ed è finito in carcere dopo che i poliziotti della squadra mobile con l'aiuto del pronto soccorso lo hanno indotto ad evacuare il malloppo di eroina che aveva infilato appunto nel retto. Fanghi del porto a Torrette. Qualcosa si muove. Fanghi al porto a Torrette qualcosa si muove. È giudicata la gara per il trasporto dei sedimenti stoccati da oltre un decennio. Fanesi dice in primavera i terreni saranno finalmente liberati da quei fanghi stoccati ormai da oltre una decina d'anni. Sono in una banchina della nuova Darsena prospicente l'area di Marina Group. L'autorità portuale di Ancona ha espletato la gara per il trasporto e immersione nella vasca di colmata di Ancona di questi sedimenti già dragati e provvisoriamente conservati nel porto di Fano. Sono anche in località Torrette ex terreno Fantasy World nella zona industriale di Numana. Quindi da queste tre postazioni verranno presi e trasferiti in questa cassa di colmate. Quindi finalmente si potranno liberare i terreni. Intanto rotaie contro ruote, guerra di firme. Intanto la maggioranza preme su questa pista ciclabile. E poi da Tavuglia la notizia sul Corriere di questa cena famosa da Carriera dove è stato elevato anche un maxi verbale. La cena in questione è quella di Monbaroccio alla quale hanno partecipato anche la famiglia di Villa i Tramonti. Erano in cinque, possibili tre sanzioni a testa. Sofia Pecci dice le contesteremo ma noi non apriamo, protestiamo perché il settore praticamente, il settore della ristorazione è distrutto. Poi su e giù dal treno per lo spaccio il corpo diventa il nascondiglio. L'abbiamo visto poco fa, questo è il titolo del Corriere. Eroina termosigillata per essere ingoiata o celata in caso di necessità. Arrestato un pusher pendolare. E poi il cliente chiama e lo incastra. Droga al parco Miralfiore. Dopo i blitz e le denunce arrivano anche le sentenze. Quindi si parla di processi. Villa Marina, zero offerte. Ancora flop. Nessuno vuole l'ex colonia Inps all'asta. Siamo a Pesaro. A fine anno la base è stata leggermente abbassata. Immobile all'incanto per poco più di 4 milioni di euro. Mentre sotto incarico alla Svim, sotto attacco l'ex leghista Cangini, passato con Carrabs la segreteria del Carroccio, ne chiede adesso le dimissioni. A Pergola invece entro febbraio riapre la sala operatoria. Reparto chiuso dal 2019 quando iniziarono i lavori all'ospedale. Tornano disponibili anche gli spazi dell'endoscopia, richiamato tutto il personale. Quindi questa è una buona notizia. L'intervento è costato complessivamente 4 milioni e 300 mila euro. Più della metà a carico della Regione, il resto dell'Unione Europea. Ruba la Mercedes a Lucrezia di Cartoceto e poi ci va al bar. Subito preso. Il 33enne aveva preso l'auto parcheggiata a Lucrezia sulla Flaminia, fermandosi poi per un aperitivo poco dopo in un bar lì vicino. Tamponi di massa. Siamo a Vallefoglia dal Corriere. Si può fare di più su 2.523 test. Trovati solo 34 positivi. Controlli gratuiti fino alla mattinata di giovedì. Più donne che uomini in fila su un bacino di 30 mila cittadini. Leggera, accelerata nei numeri rispetto ai primi due giorni trascorsi al Palavitri di Montecchio. Comunque l'importante è continuare a farsi testare. Animali Benedetti invece la tradizione non si ferma. Siamo a Cagli dove il Vescovo della Diocesi Trasarti, presente a Pianello per la cerimonia, Baldelli invece difende la montagna. La neve e l'emergenza non hanno fermato le celebrazioni dunque di Sant'Antonio Abbate che si sono svolte questa domenica a Pianello di Caglia. La presenza del Vescovo Monsignor Armando Trasarti e dall'assessore regionale Francesco Baldelli. La festa dedicata al Santo Patrono degli Animali è molto sentita a Pianello e ogni anno richiama centinaia di animali e ovviamente di proprietari per la consueta benedizione e per altre suggestive tradizioni. Siamo sulla pagina di Urbino del Corriere. Mancano 46 medici e dirigenti. Alfredo Rossini, coordinatore ANAO, Assomed per Area Vasta 1, illustra la desolante situazione dell'ospedale Ducale. Lettera inviata all'Asur in vista del piano triennale, risorse umane insufficienti, situazione cronica aggravata anche e soprattutto dai contagi. E poi dottor Mario Scoccianti, cento anni di generosità, da Rovigo a Urbino, il treguardo dello storico primario di oculistica. Da Valmetauro, siamo ancora, parliamo di Fano, anche se la pagina è quella della Valmetauro, boom del Natale delle Proloquo, in quattro settimane 110 mila utenti. Poi sotto Fontana e Rocca sono due partite separate. Savelli, siamo a Fossombrone, chiede se sono stati riattivati i contatti con la sovraintendenza. Da Mondolfo, luci, restauri e fermata bus, così Mondolfo si fa più bella, lavori in corso o in via di conclusione, l'agenda pubblica del sindaco Barbieri e poi sotto il museo a cielo aperto di Piagge sconfigge il buio, la struttura realizzata grazie alle opere donate da tanti grandi artisti. Da Senigallia 100 studenti positivi, 300 sono in quarantena, niente palestra, la ginnastica si fa in giardino, contagi tutti i numeri delle scuole in città e nell'Interland, primaria Leopardi, la protesta dei genitori. Il Comune dice che la società sportiva che usa i locali della scuola fa una regolare bonifica e poi prendete provvedimenti contro Montesi, diritti al futuro contro il consigliere dei Fratelli d'Italia dopo la cena proibita. Ospedale, il Covid allunga le liste d'attesa, posti letto riservati ai positivi, tutti occupati, mancano i medici e quelli presenti sono impossibilitati a lavorare, sale la protesta del Comitato e poi nelle case di riposo di Senigallia scattano oggi le vaccinazioni, mentre crescono i contagi raddoppiati in un mese preoccupano i dati che oltre alla città di Senigallia coinvolge anche tutti i paesi dell'Interland e questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata, vi ricordo che per le vostre segnalazioni abbiamo il nostro numero che vedete adesso in sovraimpressione 338 4968 250, è un numero che voi potete utilizzare per inviare i vostri messaggi, le vostre fotografie oppure i vostri video, tutte segnalazioni che ovviamente ci aiutano a potervi dare ogni giorno sempre meglio l'informazione locale del territorio. Grazie per essere stati con noi, 20 e 30 ci vediamo stasera con il telegiornale Occhio alla Notizia.